ciao ragazzi bentornati sul canale io sono marco io sono domenico e siamo qui con il nuovo expansion set di dragon ball super card game esatto fai vedere subito vai senza perdere cinchiacchiere qua stanno 40 gradi per i pacchetti di destroyer kings con dentro 3 secret come minimo le promo quali sono le promo vede subito quali sono quali sono le promo lo saprete già bojack blu giallo questo expansion set introduce i multicolor esatto guarda quanto sono belli incazzati bojack giallo però janemba blu broli incazzatissimo gogetta incazzatissimo tutti incazzatissimi e queste sono le carte vi metteremo qui illustrate tutte quante le provo per farvi capire meglio si sgocciolo i pacchetti andò comunque il mio boxetto al massimo vedrete su instagram cosa ho trovato apro il bt 6 è quello che si vede bene si si vai 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 giriamo leader queste carte ormai ce l'abbiamo tutte quindi si aspetta solo l'ultima andiamo direttamente al odio succo mi sa che non c'è una doppia rarità però c'è un r di magibu apriamo adesso magi in vegeta dentro cui c'è la dr di magi in vegeta proprio i pacchetti e via 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 scattare scattare su 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 fonte dello spirito questo è un fast video per via del caldo se non moriamo non ce la prendiamo doppia rarità sì non ci credo dr di sr ti serviva tanta roba spettacolare tutto mi spinge verso il gorgelo rosso ora che se sa che se non ci sbrigiamo sul capito che tipo succede così guarda dai sono riaprendo i pacchetti che già vede tipo riprende riprende soltanto veloce giro giro stai mettendo a fuoco no se io questo mi sto a fuoco doppia rarità ma che doppia rarità che cavolo di doppia rarità ancora dr di non ci posso credere a me ma allora ragazzi c'erano due boxetti mi sa che il fortunato l'ha preso lui ora su instagram vi metteremo cosa invece ho trovato io su instagram esatto e niente ragazzi se il video vi è piaciuto fate sapere cosa ne pensate seguiteci appunto su instagram se no non sapete mai cosa è uscito invece a me e saperebbe cosa ne pensate di questa di questa nuova introduzione delle carte multicolor e ciao ragazzi al prossimo video iniziamo la boja apri oh mio dio caccinella palese la secret seguiteci anche su youtube palese c'è la secret coccinella vuole la secret però vola se la uccido no non la voglio uccidere non la ucciderò mai ok se n'è andata